Grazie a tutti. Alcuni indecisi in chi riporre la propria fiducia incautamente sono finiti nella manipolazione della verità fatta da più o meno abili fat checker prezzolati proprio da quell'elite che trama i danni dei popoli e quindi anche ai danni di chi, forse indirettamente, ripone fiducia in loro. Interrompiamo qui il video nel rispetto delle norme di YouTube che potrete visionare in maniera integrale e senza censura sul nostro canale Telegram Dentro la Notizia. Iscrivetevi gratuitamente per non perdere le verità che sul mainstream non si possono dire. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 133.000 iscritti su YouTube e oltre 120.000 iscritti su Telegram e a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo. Se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione. Chi fosse poi interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su YouTube e su Telegram. Mettete un like, attivate la campanella e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby. Ciao.